K44 Tecno, dentro gli ingranaggi del trasporto e della logistica. Pochi giorni dopo la chiusura dell'IA 2022 di Hannover, Volta Trucks ha portato due esemplari del suo veicolo, che sono sempre due prototipi, al circuito di Vairano, che è tra Milano e Pavia, per fare una prova dinamica e quindi abbiamo approfittato di questa occasione per farvi vedere più da vicino questo veicolo, farvi vedere anche come funziona, come viene guidato e come si comporta su strada. La prima cosa interessante di questo veicolo è tutta la vetratura, potete vedere, che c'è un ampio parabrezza, ma soprattutto il vetro che va verticale su tutta la porta e questa dà una grande visibilità laterale dall'interno. La porta è scorrevole, quindi scorre chiudendosi e si chiude con un interruttore interno solamente se il veicolo è fermo, quindi la porta non si può né aprire né chiudere se il veicolo è in movimento. Come vedete i gradini sono molto bassi e sono integrati nella carrozzeria. Questo è possibile perché le batterie sono poste centralmente e longitudinalmente nel veicolo, quindi gli dà grande spazio, ovviamente sono nella parte dietro la ruota, qua davanti è libero, quindi si può abbassare il pianale dell'abitacolo, dietro ci sono le batterie in posizione centrale che è una posizione molto sicura che dà stabilità al veicolo e che dà anche tutto lo spazio alla cabina perché ovviamente non c'è il motore, non c'è il motore perché il veicolo è mosso da un asse elettrico della Meritor posteriore, quindi non abbiamo motore, non abbiamo catena cinematica e abbiamo spazio disponibile. Allora come vedete io sto entrando dalla parte destra del veicolo, ma siccome abbiamo una guida centrale, entrare dalla parte destra o dalla parte sinistra e lo stesso non cambia niente, il veicolo è perfettamente simmetrico e la guida centrale gli dà anche una grande visibilità su praticamente 220 gradi, la vetratura comincia lì all'altezza dello schienale del passeggero, gira tutto intorno e finisce all'altezza dell'altro schienale del passeggero. Quindi l'autista si siede in mezzo e ha una visibilità completa dell'esterno e anche una posizione diciamo comoda per entrare e uscire da entrambe le parti, cosa molto importante in un veicolo che è dedicato alla distribuzione e quindi prevede molte salite di scelte dell'autista e non si sa sempre da che parte debba scendere. Bene adesso siamo seduti sul posto di guida del Volta Trax, del Volta Zero, vedete abbiamo detto che è centrale, c'è un volante che ha i comandi al volante, teniamo conto che questo è ancora un prototipo quindi ovviamente potrebbero esserci dei cambiamenti e degli affinamenti nei veicoli poi di produzione di serie, che ricordo la produzione di questo veicolo viene fatta negli stabilimenti austero dell'Austria e vedete ci sono tre monitor sostanzialmente in questo ci sono le indicazioni relative al veicolo, qua avremo le indicazioni relative alla marcia quindi la velocità e tutte le indicazioni sulle distanze degli altri veicoli per tutti i sistemi di sicurezza e qua c'è il sistema di informazione e di intrattenimento quindi la radio piuttosto che il navigatore. L'uso è abbastanza semplice, qua c'è un pulsante di start, un po' come tutti i veicoli elettrici si preme il freno, si schiaccia start, si toglie il freno a mano, poi su questa console sulla destra abbiamo i classici tre pulsanti di retromarcia, neutro e marcia avanti quindi si mettono in una di queste tre posizioni, se si deve avviarci mettiamo ovviamente la marcia avanti e poi la guida avviene molto semplicemente, fluidamente, semplicemente col pedale del freno e dell'acceleratore che sono nella consueta posizione. Per l'apertura e la chiusura delle porte come abbiamo visto le porte sono scorrevoli, c'è un pulsante sulla parte sinistra e un pulsante sulla parte destra che aprono rispettivamente le due porte quindi anche questo è una cosa molto semplice, si aprono le porte e si esce con molta naturalezza dal veicolo. Allora come abbiamo detto la visibilità ottica di questo veicolo è 220 gradi, come vedete io praticamente sto girando intorno all'automezzo e mi vedete sempre quindi l'autista mi vede in qualsiasi posizione che io mi possa trovare dentro i 220 gradi, in realtà mi vede anche oltre 220 gradi grazie alle videocamere posteriori che sostituiscono gli specchi retrovisori come avviene ormai nei veicoli industriali anche dell'ultima generazione. Tra l'altro questo veicolo ha anche uno specchietto retrovisore centrale che è anche quello video quindi diciamo che la visibilità è veramente molto molto ampia. Ed è giunta l'ora di avviare il motore e provare il Volta Zero sulla pista di Vairano dove Volta Trax ha portato due esemplari dei primi prototipi. Come abbiamo detto per avviare il motore bisogna chiudere le porte e poi la procedura di avviamento e di partenza è identica a quella di un'ottovettura con cambio automatico. Quello del Volta Zero è molto semplice e ha due rapporti, il primo fino a 44 km l'ora e il secondo da 44 a 90 km l'ora. Il cambio avviene in modo quasi impercettibile. Come in tutti i veicoli elettrici anche questo ha una coppia elevata e ciò significa una rapida accelerazione così come è potente la decelerazione. In quest'ultimo caso se necessario il motore ricarica le batterie. La mancanza della meccanica nella parte anteriore non solo abbassa il pianale e permette la guida centrale ma aumenta anche la maneggevolezza e la fluidità della guida. Rispetto al diesel il beccheggio è praticamente inesistente e il basso baricentro dovuto anche dalle batterie montate al centro del telaio aumenta la stabilità di marcia. Al termine del giro in pista proviamo la maneggevolezza facendo girare il Volta Zero in cerchio ed effettivamente il diametro di sterzata è contenuto mentre il volante è leggero. Ma per dare un giudizio su questo nuovo camion elettrico bisogna attendere la versione definitiva e guidarla nelle reali condizioni d'uso ossia in città a pieno carico cosa che potrebbe avvenire già nel 2023.